Totò siamo ormai arrivati agli sgoccioli, un passo indietro, Misilmeri Marineo ha vinto il Marineo che è quindi salito in categoria, il Misilmeri ha aspettato la partita Agragas contro Salemi, come ben sappiamo ha vinto l'Agras e quindi domenica 5 maggio a Carini alle 16.30 Misilmeri Agragas. Vediamo questa partita come finisce e poi nel caso di me ne riparliamo. Totò facciamo questo appello a questi tifosi che seguono l'Agras, invitiamoli a venire a Carini il 5 maggio alle ore 16.30 per questa partita fondamentale per il proseguo dell'avventura. Il sogno come di molti o di pochi, di chi ci credeva, in fondo si è realizzato. Siamo alla finale del girone di promozione, era questo il nostro obiettivo, per questo abbiamo lavorato e questo sogno volevamo regalare a chi ci credeva come noi. Ora è il tempo di sbracciarsi, di darci una mano, realmente anche coltivo con la presenza a Carini non sarà una partita facile, l'avversario è tosto, ha due risultati a favore rispetto a noi, a loro basterebbe anche il pareggio, però nei recenti scontri che abbiamo avuto con il Misilmeri abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione. Come arriva la squadra a questa partita? Infortunati, squalifiche? Qual è la situazione dell'Agras oggi, dell'Olimpica Agras? Lo stato di forma dei ragazzi è buono, il morale è altissimo, già ne ho un infortunato, l'ho curto, tutto il resto della Rosa è a disposizione e speriamo di fare una grande partita domenica. Durante il campionato come sono andati gli scontri? Nel giro d'andata a Misilmeri abbiamo perso 1-0 sul rigore, credo la fine della gara, e qua invece la gara di ritorno è stata attormentata, perché come ben ricordate, dopo essere stato in vantaggio su 2-0 alla fine del primo tempo, l'arbero si è sentito male, colto da malora, la partita è stata sospesa e ahimè si è dovuto ripartire dallo 0-0. Ma i ragazzi sono stati splendidi, abbiamo vinto 4-2 nella ripetizione della gara, per questo dico che noi siamo all'altezza di questa gara, di questa finale e possiamo farcela. E quindi nuovamente l'appello finale? E quindi ragazzi, ormai è il tempo delle chiacchiere, del gelato a San Leone, chi può venga a Carini, venga a Carini a sostenere i ragazzi, salire di categoria già sarebbe un sogno e pian piano ci riaffacciamo a quel calcio che più ci compete, ma noi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, la squadra è dignitosa, la dirigenza ha dato una parte. Cioè avete organizzato qualcosa, partite da qualche parte tutti insieme, cioè come siete organizzati? Perché secondo me qualcuno anche potrebbe unirsi o no? Cioè io e il resto della squadra ovviamente partiremo in pullman, non so i ragazzi, i tifosi come si sono organizzati, verranno tutti in macchina, non credo che ci siano pullman ufficiali organizzati, so però che ci sarà una grande partecipazione di agrigentini a Carini, si stanno tutti organizzando con gli amici, ognuno con la propria auto e verranno lì. Grazie a tutti.